Ingredienti Dosi per 4 persone 400 grammi di spaghetti 100 grammi di olio extravergine d'oliva 600 grammi di pomodori freschi Un ciuffo di basilico Una falda di peperone rosso Qualche foglia di mentuccia 40 grammi di pecorino Preparazione Scottate i pomodori e togliete la pelle e i semi Metteteli nel mortaio con gli altri ingredienti del sugo e pestate fino ad ottenere una salsa Cuocete gli spaghetti in abbondante acqua e scolateli accuratamente Conditeli con la salsa guarnendo con una cimetta di basilico Il piatto è pronto Buon appetito